Benvenuti al nuovo appuntamento del Cineforum Asteria. Hirokatsu Koreeda è un regista giapponese che sa parlare dell'umanità, sa parlare delle relazioni familiari, e lo ha ben dimostrato nella Palma d'Oro, Un affare di famiglia, in Father and Son, Nelle verità, presentato a Venezia, e nell'ultimo film girato in Corea, Broker, Le buone stelle. Torna in Giappone con la sua ultima pellicola, Monster, titolo italiano-francese-tedesco L'innocenza, con il quale ha vinto il premio per la sceneggiatura da lui non scritta, ma opera di Yuji Sakamoto, ed era tantissimi anni che Koreeda non dirigiva un film da lui scritto. Un film in tre atti, che ricorda un po' Rashomon di Kurosawa, al quale probabilmente si ispira, e che ha per protagonisti dei ragazzini, tra cui Minato, di cui la madre intuisce che c'è qualcosa di diverso dagli altri bambini, e si interroga anche attraverso la scuola e le sue amicizie su cosa sta accadendo. Rivivremo per tre volte la stessa storia, riuscendo così a mettere tutte le caselle al loro posto, in un film che è poesia, che ricorda visivamente anche Miyazaki, e che ci porta in un mondo in cui chiederci il mostro è dentro o fuori di noi. Buona visione con l'innocenza di Rucazzo Koreeda.